Nel video di oggi vedremo come si possono fare dei disegni molto complessi quando si tratta di disegno vettoriale anche utilizzando delle forme geometriche semplici ed è in realtà il bello del disegno vettoriale. Io ad esempio sono una persona che non sa assolutamente disegnare, cioè so disegnare molto poco, so individuare un pochino le forme degli oggetti ma non si può assolutamente dire che io sappia disegnare, ma con programmi come Affinity Designer riesco a realizzare dei disegni in vettoriale anche molto carini. In generale quando si tratta di disegno vettoriale è sempre bene fare una specie di schizzo con la penna, con la matita insomma, da poi andare a ricalcare quando si vuole fare il nostro disegno per avere un punto di riferimento. Quindi ho già preparato uno schizzo di un disegno, in questo caso di una macchina fotografica e lo vado a inserire nella mia tavola da disegno. Per inserirlo, se avete visto, ho cliccato qui che è lo strumento per posizionare le immagini all'interno della mia tavola da disegno, vado nella cartella dove ho fatto il mio disegno, clicco due volte e poi una volta che sono sulla mia tavola da disegno, clicco e trascino e così posiziono il mio disegno. E vado a fare questa operazione, vado ad abbassarne l'opacità, qui dal pannello di livelli, vedete al 100%, vado ad abbassare molto l'opacità in modo da vedere sempre le linee del mio disegno, ma fare in modo che poi questo non mi disturbi quando io vado a effettivamente disegnare. Un'altra cosa che faccio poi è bloccare questo livello, è semplice, io ho già il mio livello selezionato e vado a cliccare su questo lucchetto, blocca sblocca e ora così lo blocco. Questo vuol dire che io posso disegnarci sopra, nel frattempo cliccare, ma vedete il mio disegno non si sposta, è anche molto importante fare questa operazione. Ora ci possiamo mettere subito al lavoro e vi faccio vedere che io qui ho disegnato questa macchina fotografica, che è un oggetto che si presta molto a questo tipo di disegno. Infatti vedete che è un oggetto che è composto da tante forme geometriche che poi tutte insieme mi danno questa macchina fotografica. In realtà il disegno, se lo vedete, è molto brutto, i rettangoli sono fatti molto male, i cerchi sono fatti molto male, però il programma viene diciamo il nostro soccorso perché ci aiuta a fare tutte queste cose ma a farle molto meglio. Ognuno ha le sue tecniche per disegnare, io vi faccio vedere come di solito disegno io ma poi ognuno deve adattare il programma, deve adattarsi a come si trova meglio. Allora io intanto una cosa che faccio sempre è mettere una traccia di un colore un pochino acceso, ad esempio un colore rosso. Io ora qui sono sul pannello colore, devo cliccare qui e mettere in primo piano la traccia che ora come vedete è nera e vado però a cambiarla ad un colore più rosso. Ecco ora ho messo il rosso, di modo che quando io vado a disegnare ho una traccia rossa che si vede molto bene, poi la cambierò alla fine. Mentre il mio colore in primo piano lo riclicco, in questo caso è bianco, lo metto trasparente. In questo modo quando vado a disegnare una forma ho solo la traccia e non ho riempimento, anche lì il riempimento lo aggiungerò dopo che ho disegnato. Quindi mettiamo un riempimento trasparente. E ora sono pronta per iniziare. Si può iniziare da qualsiasi punto. Io adesso direi che inizio dalla parte principale, quindi prendo il mio strumento rettangolo, ci clicco sopra, vengo qua, clicco trascino e poi lo faccio appunto della grandezza di questo oggetto e rilascio. Un'altra cosa che mi viene in mente di farvi vedere, vedete adesso non si vede il mio, ho cliccato fuori, vedete non si vede la mia forma. La vado a selezionare con lo strumento sposta che trovate qui in alto a sinistra, la riseleziono, non la vedete perché anche se ho una traccia rossa in realtà il mio tratto ora sicuramente è messo a zero. Infatti vedete, vado qui sul pannello tratto e messo a zero lo aumento un pochino. Lo aumento un pochino in modo che si veda bene. Ok, quindi adesso vedo anche il mio contorno. Benissimo, direi che il corpo della macchina è stato disegnato. Ora vado a disegnare altre parti. Quindi prendo di nuovo il mio strumento rettangolo e mi rimetto qui perché voglio disegnare questo pezzettino qua. Ecco qua, fatto. Man mano che disegno vedrete che alcune cose si sono accavallate ma poi quando io colorerò il mio disegno non ci sarà più questo problema di avere le figure tra loro accavallate. Lo vedrete man mano insomma che va avanti il video. Ora faccio un altro sempre rettangolo clicco qui, trascino perché è questo pezzettino qui di macchina fotografica. Clicco sul mio strumento sposta, clicco fuori per farvi vedere come sta venendo. Ok, ora facciamo questa parte qua che è il flash della macchina fotografica. Riprendo quindi il mio strumento rettangolo clicco e trascino. Vedete però che questo rettangolo in realtà avrebbe degli angoli molto arrotondati. Quindi cosa faccio adesso? Vado sullo mio strumento angolo. Quindi ora che sono sullo strumento angolo ho i miei angoli. Clicco e trascino fuori così li seleziono tutti perché per poterli modificare questi quadratini prima erano bianchi devono essere blu. Poi clicco e trascino e vedete che li posso trascinare fin quanto voglio. Ok, così più o meno. Ok, perfetto. È come sarebbe il mio flash. Poi devo fare qui delle righettine che sono quelle del flash. E in questo caso uso lo strumento penna. Questa cosa è importante. Allora spesso quando disegniamo in vettoriale è molto utile usare un mix di strumento penna e figure geometriche. Quindi ora prendiamo lo strumento penna clicco in questo punto e poi clicco in quest'altro punto. Per fare in modo che sia perfettamente orizzontale questa riga devo tenere premuto contemporaneamente il tasto shift. E vedete che mi fa una riga perfettamente orizzontale. Poi premo il tasto sulla tastiera ESC perché sennò continuerei a disegnare da questa striscetta per poter fare un'altra righetta. Clicco e poi sempre tenendo premuto il tasto shift riclicco qua. Ora tengo premuto sul tasto sposta perché faccio questa cosa. Sono sul tasto sposta tengo premuto alt sulla tastiera e trascino e vedete che mi copia la mia righetta e quindi lo faccio un paio di volte per avere le righette che mi servono. Adesso si sono anche un pochino spostate ma le sistemo anzi una cosa disegnandole a mano ovviamente le ho messe anche a una distanza un pochino casuale mentre grazie ad Affinity Designer io le posso avere poi perfettamente alla stessa distanza. Ora quindi cosa faccio? Le seleziono tutte intanto. Io ho selezionato per primo questa e voglio che tutte le righe siano allineate a questa quindi vado qui sullo strumento allineamento e faccio allinea al centro allinea alla prima selezione quindi ora sono tutte perfettamente allineate e poi qui in allinea verticalmente faccio spazzatura verticale. In questo modo le ho tutte distanziate perfettamente ed anche il mio flash è fatto. Ora andiamo a fare il mirino semplicissimo anche qui strumento rettangolo clicco e trascino. Facciamo invece il pulsantino per scattare le foto diciamo vado sul mio strumento ellisse clicco e trascino e tengo però in questo caso premuto il tasto shift perché io voglio un cerchio nel mio caso come vedete io a mano non ero riuscita a disegnare il cerchio ma invece adesso con Affinity Designer è facilissimo farlo basta usare lo strumento ellisse e poi tenere premuto il tasto shift vado sullo strumento sposta di nuovo perché lo sposto un pochino ok posso anche usare la tastiera se non riesco a spostarmi bene con il mouse mi avvicino anche un po' così vedete meglio torno sullo strumento ellisse e faccio un altro ellisse sempre tengo premuto il tasto shift per fare un cerchio ora torno sullo strumento sposta perché voglio allineare bene questi due cerchi quindi vado di nuovo su allineamento prima selezionato un cerchio poi selezionato l'altro cerchio e faccio allinea orizzontalmente alla prima selezione e poi allinea verticalmente sempre alla prima selezione ora sono perfettamente concentrici faccio vabbè applica e ora devo fare questo trapezino qui diciamo guardate vado proprio sullo strumento trapezio che tra l'altro avevo anche già aperto clicco e trascino e poi rilascio e poi sistemo bene il mio strumento trapezio anche questo in realtà deve essere perfettamente allineato a questi cerchi quindi torno sul mio strumento sposta seleziono il cerchio seleziono il trapezio e faccio sempre qui in alto allinea e allineo orizzontalmente alla prima selezione così sono perfettamente allineati ora torno a una visione più generale per farvi vedere già come sta avvenendo il mio disegno andiamo ora a fare l'obiettivo intanto comincio sempre da un cerchio lo strumento ellisse e faccio quello più grosso esterno quindi clicco e trascino tengo premuto shift vi faccio vedere una cosa io adesso ho scelto un punto casuale per questo cerchio ma in realtà lo devo spostare lo posso benissimo spostare ma se io ora che non ho ancora rilasciato il mouse tengo premuto la barra spaziatrice vedete che io questo cerchio ora invece lo posso spostare un pochino meglio e posizionarlo già un pochino meglio quindi faccio così questo è il cerchio più esterno barra spaziatrice perché voglio che sia molto vicino lì ed ecco che ho il mio cerchio esattamente dove lo volevo e ora devo fare tanti altri cerchi e devono essere tutti concentrici tra di loro anche se il mio disegno in questo caso non lo sono assolutamente ora io lo faccio faccio questa cosa ma vado un pochino più veloce nel video così voi non dovete diciamo beccarvi questa operazione che ormai avete capito come si fa non dovete ok ho disegnato tutti i miei bei cerchi adesso mi manca ancora pochissimi elementi mi manca il mio sportellino dell'apertura dell'obiettivo e questo lo faccio utilizzando sempre lo strumento rettangolo ora vedete che verrà una cosa un pochino strana ma poi sistemo tutto dopo quando vado a colorare il mio disegno quindi faccio un rettangolo poi clicco su alt sulla tastiera trascino così ne faccio uno identico e poi vado a cavallarli mi aiuta anche la mia guida magnetica così ora ho il mio sportellino poi mi manca questo cerchietto qua quindi vado dal mio ellisse di nuovo tengo premuto shift e qui andrà a finire il mio cerchietto poi ancora vado sul strumento rettangolo e per fare il mio bottoncino qua e sullo strumento sposta poi per sistemarlo un pochino e poi sullo strumento angolo per selezionare tutti gli angoli e trascinarli e farlo totalmente tondo diciamo questi angoli in modo appunto da avere il mio pulsantino vediamo se mi manca qualcosa si mi manca questo pezzettino qua allora questo pezzettino qua direi che uso uno strumento rettangolo per farlo e poi sopra ci metto un cerchio un'ellisse tengo premuto trascino e faccio shift lo devo fare di questa grandezza poi vado sullo strumento sposta lo avvicino vedete poi clicco qua e poi clicco su quest'altra figura tenendo premuto maiuscolo e le vado ad allineare verticalmente così so che sono perfettamente allineate e poi dopo mi avvicino ancora un pochino forse va allargato un pochino ok dopo vanno andrò a formare una figura unica con questi due forme anzi lo faccio subito seleziono tutte e due tenendo premuto il tasto maiuscolo e vado qui su aggiungi queste sono le operazioni boleane ho dedicato anche un video a questa a questa cosa come realtà ho dedicato un video a tutto quello che sto facendo in questo in questo tutorial non c'è assolutamente niente di nuovo che non vi abbia già fatto vedere l'idea è proprio però farvi vedere come applicando tutte queste piccole cose mettendole insieme si possono realizzare delle cose veramente complesse ecco che ho fatto il mio il mio cosino vedete che qua in realtà ho questa questa gobbettina qua mi è venuta perché il cerchio non era abbastanza grande quindi tengo premuto ctrl z e torno indietro vedete e faccio il mio cerchio ancora un pochino più grande ok quindi ci riproviamo ora che ho sistemato un pochino il cerchio seleziono faccio di nuovo aggiungi e ora va decisamente meglio mi rimane questa piccola gobbetta posso anche non interessarmene se no se io vado sullo strumento nodo vado a cancellare il il nodo qua che non mi serve questo lo cancello tengo premuto lo seleziono vedete che ora è diventato blu premo backspace e cancello quel nodo lì e vedete che la mia gobbettina è sparita faccio la stessa cosa qua non è questo qua sotto vedete questo è quello che fa la curva quindi leverei la curva ma è quello sopra in questo caso seleziono ora che è blu premo backspace sul tasto cance sulla tastiera e vedete che ho levato quella gobbettina e io ho fatto così anche questa questa finestrina qua vediamo se mi manca qualcosa ancora sì mi mancano ancora due cose una è questa qui che è la fotografia che esce perché si tratta in questo caso di una fotocamera istantanea quindi faccio una bella foto che esce e poi tengo premuto il tasto sposta diciamo vado a vedere di nuovo cosa mi manca e mi manca questa cosina qua queste praticamente sono due cerchi uniti da una linea ora farli qua dentro in realtà mi viene un po scomodo quindi io cosa faccio in questo caso li disegno qua fuori cioè faccio i miei due cerchi e li faccio anche grandi in realtà perché non c'è bisogno di disegnare nel piccolo faccio due cerchi uguali sono uguali mi sono aiutata con con le guide ma poi appunto potevate anche semplicemente farne uno poi ricopiarlo vado un attimo sullo strumento sposta li avvicino perché se andate a vedere nel disegno sono molto vicini sono proprio attaccati e ora sfrutto lo strumento penna vado sullo strumento penna clicco qua clicco qua vedete con le guide mi aiuto clicco qua clicco qua e clicco qua e quindi ho disegnato questo cosettino qui l'ho fatto qui però perché mi veniva più comodo ora seleziono tutto tenendo premuto il tasto shift lo rimpicciolisco ora vediamo quanto mi serve se lo riseleziono faccio ctrl g così lo raggruppo e lo sposto comodamente ok l'ho fatto troppo piccolo ora lo giro comunque lo sistemo qua più o meno dove dovevo andare a sistemarlo della grandezza giusta ok perfetto il mio disegno in realtà è finito ora devo colorarlo e vedrete come migliorerà ulteriormente perché ora qui appunto vedete che è tutto accavallato può sembrare un pochino incasinato ma in realtà vedete che una volta che coloriamo le varie figure tornerà tutto al suo posto io ho notato una cosa però l'ho notata già mentre disegnavo in realtà questa macchina fotografica dovrebbe essere un po più corta un po più bassa il flash dovrebbe essere qua vicino insomma dovrebbe essere un po tutto più vicino e questa parte dovrebbe essere un po più bassa fare questa cosa quando si disegna a mano correggere questo tipo di errori può essere un pochino più complicato mentre è strafacile farlo quando si tratta di disegno vettoriale intanto ne approfitto per raggruppare un po' di oggetti ad esempio questo tengo premuto il tasto maiuscolo e seleziono tutte queste componenti e poi clicco sulla tastiera ctrl g per raggrupparli in questo modo qui ho il mio flash che è tutto insieme una volta che clicco sulla figura la posso spostare insieme ho fatto questa cosa ora qui dai livelli ho rinominato anche questo gruppo flash in questo modo io lo ritrovo molto facilmente quando devo andarlo a recuperare il flash lo sposto insieme allo sportellino quindi clicco lo sportellino clicco sul flash tenendo premuto maiuscolo e tiro giù tiro giù e qua secondo me era la posizione giusta e ora devo semplicemente tirare giù queste figure qua qui tiro un po' giù qua qui la tiro giù questo rettangolo seleziono e tiro giù qua un altro rettangolo seleziono e tiro giù e poi prendo questo e lo porto tenendo premuto shift così so che me lo sposta esattamente in maniera orizzontale e me lo porto qua e vedete quanto è stato facile modificare il mio disegno e ora passiamo alla parte forse ancora più divertente che è quella di colorare tutto questo disegno allora prendiamo innanzitutto il corpo macchina ho cliccato male riclicco qua per beccarlo no non sono ancora riuscita a beccarlo vedete continuo a cliccare sulle altre righe e non riesco a cliccare su quella che a me serve posso andare qui sul pannello livelli per aiutarmi e clicco sul rettangolo giusto ok anzi ora che l'ho trovato lo rinomino lo nomino corpo macchina io prima non l'ho fatto ma è molto importante nominare tutti questi livelli in modo poi da ritrovarli facilmente come vi dicevo allora il corpo macchina io lo voglio fare marroncino vado nel mio pannello campioni e vado ad aprire un pannello di campioni che io ho già salvato dentro il mio affinity designer anche lì se volete vedere come salvare le vostre palette colori ho fatto un video a riguardo ok e io volevo un marroncino per il corpo della mia macchina e quindi ora faccio il marroncino vedete ora che c'è un po' di casino anzi una cosa che ancora non avevo fatto ora la faccio però mi sono dimenticata scusate vado dai miei livelli intanto e prendo l'immagine quella che è sotto e la levo perché ora che ho il mio disegno non mi serve più a niente avere questo di sottofondo semplicemente sfleggo qua in questo modo non è più visibile cioè non l'ho cancellata ma è sempre lì e poi un'altra cosa che faccio è cliccare, trascinare e selezionare tutto e fare in modo che tutto abbia lo stesso identico tratto lo stesso spessore e posso anche ricolorarlo di nero quindi ora porto in primo piano il mio tratto rosso lo coloro di nero perché non ho più bisogno di distinguerlo troppo rispetto allo sfondo poi vado su tratto e per adesso gli do un tratto di 1 ed ecco che ho tutto diciamo da un tratto di 1 nero torniamo dal mio colore e torniamo qui dai miei livelli perché ora devo colorare tutto man mano allora prendiamo questa parte del corpo macchina e la voglio fare in questo caso grigina ma sono andata al colore ma volevo andare dai campioni mi sono sbagliata allora la facciamo di questo grigino qua proprio un grigino chiaro vedete mi sono sbagliata in questo momento e ho colorato il tratto non era quello che volevo fare faccio ctrl z e torno indietro perché devo stare attenta quando coloro e voglio colorare il riempimento deve essere in primo piano il riempimento quindi riproviamoci ora gli do questo colorino grigio ce l'ho fatta ecco finalmente ora anche questo pulsantino deve essere grigio quindi lo seleziono e lo faccio di questo grigino uguale anzi facciamolo di un grigino un pochino più scuro per distinguerlo bene ora anche questo pezzettino qua lo voglio del grigino uguale a questo in questo caso io so già che era qua il colore quindi lo prendo semplicemente ma se io voglio avere un colore uguale io posso andare anche qui sullo strumento selezione e cliccare sul colore che io voglio replicare vedete che ho replicato lo stesso identico colore ora torno sul mio strumento sposta e vado a colorare lo sportellino quello del visore diciamo allora questo è molto scuro scuretto lo faccio di questo colore qua ora andiamo dal flash e questo lo voglio fare di un giallino chiaro chiaro allora devo entrare dentro il gruppo del flash perché non devo disegnare tutte queste curve devo non rimanere nere io devo solo colorare il riempimento del mio flash che voglio fare di un giallino chiaro chiaro vediamo così sì così va bene ed ecco che ho colorato il mio flash poi questa spia era una spia rossa la seleziono faccio la spia rossa qui sono vari livelli di grigio invece allora questo cerchietto lo faccio di un grigio un po' più scuro anzi di questo grigio qua questo lo faccio del grigio un po' più chiaro ok vedete cosa è successo è che questo cerchio che non vedo più il mio cerchio sotto ma perché semplicemente lo devo portare sopra io qua sono sui miei livelli ora questo cerchio che doveva stare sopra lo trascino sopra e ecco che è ricomparso semplicemente ora andiamo a disegnare il mio a colorare il mio trapezio e lo faccio di un grigio sempre chiaro anche qui ora vedete il trapezio fa questo effetto qua deve essere sotto questo cerchio e quindi lo trascino sotto ed ecco che ho il mio bel pulsantino allora ora questo lo voglio di un grigio chiaro che sia ancora un po' più chiaro di questo ma che non sia ancora chiaro come questo quindi vado nel mio pannello colore e lo cambio qui direttamente dalla ruota per imparare a usare questa ruota ho fatto un video apposito quindi trascino e vedete lo trascino e cambio il colore fatto ora vediamo una visione generale direi che sta venendo una cosa molto carina allora andiamo ora a colorare il mio obiettivo allora la parte esterna è sempre un grigio chiaro torniamo sui miei campioni e lo faccio di questo grigio chiaro qua ora vedete è tutto colorato ma perché la il cerchio che è più sotto la man mano colorerò anche il resto clicco su questo qua e a questo punto invece li faccio di un grigio molto scuro quasi nero diciamo e in realtà tutti questi cerchietti voglio che siano di questo colore qua qui in realtà quindi ho tutto del colore che volevo l'unica cosa questa questa diciamo rilevanza qua è una parte della macchina fotografica che aveva lo stesso colore del corpo quindi clicco qua sullo strumento selezione i colori clicco qui vedete che l'ho colorato dello stesso colore però questo cerchio va messo posizionato sotto quindi ora trascino qua dal pannello di livelli e man mano lo porto sotto perché deve essere sotto a tutto eccolo qua vediamo deve essere esattamente così ecco vedete perfetto allora direi che praticamente ho finito l'unica cosa che devo sistemare è questo sportellino qui a cui ho finito perché queste parti qua sono tutte colorate di questo stesso colore allora a questo punto le comunque coloro tutte perché se no rimangono vuote forse lo faccio leggermente più chiaro questo 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 scuro quindi torno nel mio pannello colore nella ruota e la faccio leggermente più chiaro ok perfetto ora seleziono questo cerchio clicco qua poi seleziono questo cerchio ora mando un pochino veloce ok io ora lo potete vedere bene qui dai livelli qui ho il mio obiettivo tutti questi cerchi devono essere colorati tutti dello stesso colore io li ho colorati vedete ora che è tutto diciamo colorato ci sono queste due piccole cose che devo sistemare che sono gli sportellini qua e devo sistemare questa cosina qua allora per fare in modo ora che lo sportellino sia sistemato io praticamente devo portare lo sportellino qua dietro però per poterlo vedere devo bucare praticamente questo cerchio qua quindi facciamo così intanto clicco qui su questa figura poi clicco qui e faccio sottrai in questo modo qua lo vedete si è creato questo cerchio che ha questa parte però che è visibile poi prendo i due rettangolini e li porto dietro ed ecco qua vedete che così io li vedo perché sono dentro questo cerchio che è però bucato ma si mi si è diciamo nascosta quella parte che invece non dovevo vedere insomma e ho sistemato così il mio sportellino ora vado a sistemare invece questa parte qua ed è anche qui abbastanza semplice vado dentro al gruppo perché era un gruppo e io devo avere davanti gli ellissi e dietro il rettangolo e vedete che ho sistemato anche questa parte qua l'unica cosa è che i cerchiettini li devo fare di un grigio più scuro quindi vado qui uso la ruota colore in questo caso il selettore e li faccio più scuri benissimo poi voglio scurire anche un pochino il rettangolino ma non quanto quelli però comunque un pochino più scuro perfetto ok poi vediamo un pochino se c'è qualcos'altro da fare magari scurisco un pochino questa parte qua e scurisco un pochino anche questa parte qua e poi qua ok così magari il mio obiettivo si vede un pochino meglio benissimo ah qua è la foto che sta uscendo la voglio fare proprio nera è il retro della foto diciamo ecco direi che il mio disegno è completato forse una cosa che posso fare è un pochino arrotondare pochissimo questi angoli li posso selezionare tutti vediamo tenendo premuto il tasto maiuscolo vedete ora di selezione di blu e poi metto qui come raggio 5 pixel per arrotondarli un pochino ma proprio impercettibilmente se vedete nella figura sotto non si sono arrotondati ho due opzioni o li arrotondo sotto oppure sotto lo nascondo un po' e sceglierò questa opzione diciamo prendo il corpo della macchina trascino un pochino sotto la stessa cosa faccio qui trascino un pochino sopra così vedete che ho nascosto gli angoli che spuntavano e io direi che così va benissimo è finita spero che questo video vi sia stato utile spero che vi insegni vi faccia vedere come è possibile disegnare in maniera estremamente facile con Affinity Designer o con qualsiasi altro programma di grafica vettoriale anche se non siete delle esperte di disegno anche per oggi è tutto e ci sentiamo al prossimo video